Aggiornamento settimanale dei dati sull'emergenza Covid-19 nell'ultimo report a cura dell'unità operativa di epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell'Ase Brindisina. Alla data del 27 dicembre 2020 in provincia di Brindisi risultano positivi infatti 966 soggetti, di cui 513 donne e 453 uomini con età media di 46 anni. L'ultimo aggiornamento sullo stato di salute dei positivi attuali descrive 554 soggetti asintomatici, 283 pauci sintomatici, 55 pari al 5,7% con sintomatologia lieve, 10 con l'1% con quadro severo, 4 con lo 0,4% con quadro critico e 54 in fase di guarigione. Si osserva negli ultimi due mesi un assestamento dei valori dell'età media compresi tra 42 e 47 anni, con la metà dei casi anagraficamente riconducibili alla fascia produttiva della popolazione. 5456 casi sono stati posti in sorveglianza e isolamento fiduciario, mentre per 355 pari al 6,1% si è provveduto al ricovero in isolamento. Il tasso di letalità è pari al 2,4%. All'aumentare dell'età si osserva un incremento di tale tasso. Sono 148 i decessi totali, 116 tra persone che hanno 3,70 e 90 anni e più, 19, 360 e 69, 11 casi 3,50 e 59 e 2 nella fascia 30-39.